Sassuolo, Empoli, è la sesta giornata di Serie A femminile il Sassuolo per replicare a Juventus che sta andando forte come un... A sinistra, non c'è il possesso del pallone di Knoll, poi riparte ancora una volta Mella sulla corsia mancina. La pressione di Benoit che dà fastidio, lancio lungo cercando Cantore in aria, Cantore! E' meraviglioso il gol del Sassuolo dopo cinque minuti, un lob perfetto, è il numero 11, Nero Verde, porta avanti il Sassuolo, 1-0, gara sblocchiata. Si senta la necessità da una parte di cambiare qualcosa, dall'altra di applaudire l'autrice del gol, meraviglioso. La mette giù, indietro, c'è Knoll, Knoll sbaglia il lancio, ripartenza della Sassuolo con Cleland dalla distanza. Cleland, palla sul palo, poi occhio a Cantore che dribbla. Conclusione da fuori di Cleland, la palla che si stampa sul palo. Prova a passare, il controllo è buono di Cinotti al limite, Cinotti e Dompig sono vicine. Palla di ritorno per la 9, il tiro da parte di Dompig, squillo dell'Empoli sul finire del primo tempo. Oliviero l'ha buttata in calcio d'angolo dall'altra parte, ancora Parisi, stavolta traiettoria a uscire. Palla sul primo palo, spizzata e conclusione dalla distanza, Minskia, poi Dubkova. Stavolta, stavolta facile facile, stavolta è gol del Sassuolo, 2-0 per i Neroverdi. Segna il secondo gol in tre partite, dopo quello bellissimo, Alvismara contro il Milan. Mellancora. Bellucci in fase di impostazione urla tanto per dare indicazioni alle sue compagne. Palla lunga, occhio all'interno dell'area, Cantore! Altro gol di Sofia Cantore che sarà 5 in campionato, 3-0 per un Sassuolo che è una macchina da gol. Dopo il gol, palla invece sul secondo palo proprio per Asia Beragonzi, non arriva il pallone neanche da Dompig. Poi si gioca con la conclusione, il gol dell'Empoli, 3-1. Gol di Bardin. La palla che rimane lì. Esattamente, gol di Bardin. Palla sulla prima palo, anzi è una sorta di schema con il cross, poi sulla prima palo dopo un tocco corto. Si rimane lì con il gol dell'Empoli con Cinotti. Che a porta vuota non può fare altro che buttarla dentro. E' 3-2. Palla sulla seconda palo per la Dompig che non ci arriva Dubkova, allontana, non è finita. Ci può provare Bellucci dalla distanza. Conclusione, Murato, altro tiro. Di Prugna, vicino al pareggio l'Empoli. Confusione, palla al limite. Prova ad allontanare la difesa del Sassuolo che vince. 3-2, una partita meravigliosa. Sassuolo che rimane in vetta. Replica alla Juventus.